buongiorno belli buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di libri e di viaggi oggi però non vi parlo di un viaggio ma vi parlo di un bellissimo libro come vedete non ce l'ho qui alle mani perché è un libro che potete scaricare gratuitamente dal web e si intitola la strega sanaconda e la guerra di virulandia è un libro per bambini che è stato pensato da gabriella de paoli per spiegare ai nostri piccoli il problema del coronavirus è una bella fiaba inventata da gabriella de paoli che è una ex libraia per bambini e un'esperta di comunicazione gabriella ha contattato la casa editrice a stragalo e la figura della director bruno testa ha sposato questo progetto e l'ha reso possibile anche insieme al lion club leggo perché non mi ricordo precisamente distretto 108 i a 1 mi ci voleva mi ci voleva l'appiglio queste figure questi enti hanno reso possibile la realizzazione di questa storia una bellissima storia illustrata potete scaricarla in forma pdf sul vostro telefonino sul tablet potete fare come ho fatto io che alla fine l'ho stampata vi invito a leggerla se avete bimbi ma anche se non l'avete perché è una maniera molto interessante di vedere questa situazione di capire questa situazione che ci sta coinvolgendo vi lascio nella descrizione tutti i riferimenti per poter anche voi scaricare questa storia troverete un altro video dove vi leggo questa storia potete farlo vedere ai vostri bimbi e siamo così siamo 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 in piena situazione coronavirus quindi mi sembra giusto dare uno spazio anche a questo momento di viaggi se ne torna a riparlare prestissimo vi assicuro e io volevo ringraziare edizione a stragalo il distretto lo rileggo 108 i a 1 del lion club international e gabriella de paoli per aver pensato questa storia molto bella e per averla donata a tutti noi a tutti i nostri bambini io vi saluto vi ringrazio vi appuntamento alla prossima puntata go 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 ciao